È la famiglia il cuore pulsante della Tredicina che quest'anno accompagnerà con la riflessione e le invocazioni fedeli, devoti e amici di Sant'Antonio alla solenne festività del 13 giugno. Scandito dai pellegrinaggi delle diocesi venete guidate dai loro pastori, questo momento di preghiera rituale che segue la Messa delle 18 e sarà trasmesso in diretta da Rete Veneta, emittente del gruppo Media Nord-Est, porterà i devoti a riflettere sul ruolo della famiglia, declinata nelle sue varie esperienze. Famiglia in formazione, aperta alla vita e all'accoglienza, famiglia ferita o numerosa. Nell'anno della famiglia di San Giuseppe, aperto il 19 marzo da Papa Francesco, la comunità dei fratti vuole riflettere con i fedeli grazie al racconto di famiglie e testimoni. Il Covid ha provato la famiglia, costretta all'isolamento, a confrontarsi con la difficile accettazione di lutti e distanze, ma l'amore supera ogni ostacolo e per questo i frati custodi di Antonio, della sua fede e della sua devozione, per voce di padre Olivero Svanera, lettore della Basilica del Santo, spiegano a queste famiglie in prima linea, che hanno combattuto e combattono, animate dall'amore e dalla fede, abbiamo deciso di dedicare la tredicina di quest'anno. Grazie.